mitici mitiche marco drums games day one edition andiamo con il capolavoro mossi il cronista a dire che le terre di valistea sono benedette dai cristalli madre la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità eppure ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli così inizia il nostro viaggio eppure ciò che vende Grazie a tutti. Beh amici e amiche, già partiamo a Belva. Grazie a tutti. Spettacolare. 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 Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Sì, sergente. Devi concentrarti, Wyvern. Wow, raga. Oh, il menu principale. Ok. Vabbè, prima di tutto salviamo. Grande. Messaggi. Gioco. Ok. Non abbiamo molto tempo. Sta per scatenarsi l'inferno qui. Qui cammina. È ora di muoversi. Ah, ok. Bello. Inchina appena appena la levetta, cammina. Fai tutto, corre. Bello così, così non ce la schiacciare 50.000 volte il tasto. Io non ho provato la demo, raga. Allora. Allora. PIRATE! Wow, raga. Questi sangue ferreo sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Chi c'è? Ai cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa! Calma ora! Maresciallo, il re di Walud è il nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. Grazie. 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 Mi chiedo perché ci abbiate convocati Avete così poca fiducia Nei vostri uomini Mi pare che siano stati Dalmec a rispingere i crociati nella battaglia di Regni Gemelli Dico bene? O forse mi sbaglio Inoltre... Il vostro dominante deve ancora schierarsi E quando lo farà I nostri cavalieri saranno d'ostacolo Forse non l'avete sentito ma ora i sangue ferreo hanno una dominante Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli Fanculo i cavalieri Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere Allora la capitale resterà scoperta E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine Quindi Resto solo io Kupka! I sangue ferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia Ora basta giocare Brutto sbruffone Benedetta Fa' attenzione Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre O credi che sia io la lepre? No amore mio Sei un leone Il mio leone Un po' di gelo non mi spaventa Benedetta Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno I fronti cedono È la nostra occasione Approfitteremo del caos Il corso Il corso Il corso Il corso Allora Ah basta appoggiarsi e sale lui, grande Svelti e letali? Come sempre Guidaci tu Fermi Qualcosa non va Oh caspita Cos'è quello bulligante? Oh Titano Quindi i Dalmex si sono stancati di farsi massacrare E guardate chi c'è ad accogliere il bastardo Barca Ancora Un'altra 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fuori, fuori. L'esperienza è più spettacolare che poi mi penso di, se che non è più fisico che c'è, poi la possiamo anche vedere. Volevo soltanto, se è possibile, togliere, togliere, alla storia... Aumentare un po' il volume, se si può. Vai, rastelli. Aumentare un po' di più. Fia! Fia! Aumentare un po' di più. Aumentare un po' di più. Fratello! Clyde! Alza! Sono sempre le stalle. E' potuto deludere gli spettatori. Ok. Ricominciamo dal principio. Sì, bravo. Forza, vediamo che sapete fare. Ok. Molto bene. Questa abilità con la spada vi sarà utile sul campo. Ma siete altrettanto abili con la magia? In voi bruciano le fiamme della Fenice. Lasciate... Lasciate che si materializzi. Forza, Clive! Fate piovere fuoco su di me! Eccellente! Continuate! Ben fatto! Ok. Ok. Schivata! Come avete fatto? Schivata! Ero sicuro di colpire! E' stato incredibile! Bene! Ricordate, Clyde, la lama non è la vostra sola arma. Mente sveglia e piedi veloci sono strumenti indispensabili per qualsiasi scudo. Ma voi non siete uno scudo qualsiasi. Mostratemi cosa vi rende speciale. Siete stato benedetto dalla Fenice. Potete sfruttare i suoi poteri. Invocateli ora per avvicinarvi a me. Beh, vi aspetto! Allora, cosa devo fare? Vorrei che tutti gli scudi fossero agili con me. notevoli. Persino il più agile degli scudi non può schivare tutti i colpi. E la morte può sopraggiungere tanto per pochi tagli quanto per migliaia. C'è un solo modo per assicurarsi di non morire. Tenere le ferite curate e le energie reintegrate. A tale proposito, mi sembrate un po' malconcio. E questo non va bene. Ok. Bene. 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 La battaglia è una sequenza di momenti cruciali in cui la vita e la morte si decidono con un singolo colpo. Dovrete essere pronti a sfruttare ogni strumento a vostra disposizione per conquistarvi la tanto bramata vittoria. O quantomeno, per assicurarvi di sopravvivere un altro giorno. Basta allenarsi. Mettiamoci alla prova. Vi siete ripreso dal bagnetto, spero. Non infierirei contro un uomo in difficoltà. Non vedevo l'ora. Forza, Lord Rosfield. Fatevi sotto. Se vi ritenete digno di essere il finito scudo della fiamma, dimostratelo. Aspetta che ti picchiere adesso. Come volete, mio signore. Fatevi sotto. Qui sotto. Dimostrate quanto valete. Continua. Lo batterai sicuramente. Puoi farcela. Manziani la... Che state facendo sul serio? Continua così, Clyde! Può seguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Bella lì! Bello, bello il gameplay. Tanta roba. Ha vinto! Te l'avevo detto io! Già! Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Joshua. Ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene. È solo un raffreddore. Non esagerare. Sua grazia è tornata! Papà, è qui! È vostra grazia, vi prego. Questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli inferi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, vostra grazia. Viviamo per servire. Non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Lord Murdoch? Vostra grazia. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so. Non è colpa sua. Non tutti nascono come fenice. Andiamo anche noi. No, non è colpa sua. Riposo, amici miei. Ben tornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre. Mi sento meglio. Oggi, Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Torgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia. Vostra grazia. La capitale giuisce del vostro... ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati. Scudi congedati. Scudi congedati. Torgal. Dove pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'Arciduca. Già. Qualche problema? Non saprei. Devo vedere mio padre. Ok. Inquipaggiamento. Allora. Allora. Ah, ok. Perfetto. 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 Ho aumentato un po' l'audio delle voci. Adesso vediamo se va bene. Siamo già a 30 minuti di video, eh? Controlla che ci siano tutti i cristalli. perdonatemi, mio signore, ma devo finire di spezionare i cristalli. D'accordo, non vorrei dare ai soldati frammenti esauriti. come nuovo? Ah, perdonatemi, Lord Marchese, vi prego, non datevi pena per questo sfaticato Inchinati, idiota! Ma io... Ti ho forse detto di parlare Nessun problema, davvero Oh, ma non viziatelo Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo È fortunato a essere nel regno di vostro padre Molto fortunato e non manco di ricordarglielo neanche un giorno Vi prego, alzatevi In piedi Confido che la sua fortuna non l'abbandoni Certamente, sì, questo è il desiderio di vostra signoria Cerca di non esagerare Ricorda, sei al servizio del Ducato Come tutti noi, mio signore Come tutti noi Su, andiamo allora È ora di rimettersi al lavoro Ciao E' ora di rimettersi al lavoro torniamo che cosa c'è questa roba blu che dà una vita che qualcuno qui è affamato vabbè non sapremo mai che cosa c'è bellissimo c'è Joshua c'è Joshua Clive io ti preoccupa la guerra i soldati si aspettano aiuto dalla Fenice ma non so se posso farlo sta tranquillo Joshua ti guiderà nostro padre e ci sono io a proteggerti sempre lo so grazie Clive bello 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 la sicurezza di Joshua vengono prima di tutto allora alcune perché sono belle e forti auguri avete richiesto la mia presenza vostra grazia ora smettila di leccarmi i piedi tua madre non è qui come se la cavano i territori molti sono sotto una coltre nera in queste poche lune la piaga ha avvolto le distese settentrionali è solo questione di tempo prima che varchi i confini per le fiamme i rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale e anche se li mandassimo a sud a Porta Isolde beh ne arriverebbero altri ogni giorno perdute un giorno più vicino al disastro dobbiamo muoverci ora contro il regno di ferro ci siamo scontrati con loro troppo a lungo chiuderemo la questione come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga i sangue ferreo non cederanno presto sarà una dura lotta domani andremo a Porta Finice lì ascolteremo le parole degli antenati come tradizione vuole verrò con voi come scudo di Joshua voglio che tu faccia un'altra cosa prima Rodney come saprete sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini goblin nelle paludi della bonaccia ho sentito delle voci sì allora sapete già cosa bisogna fare vi assegnerò due uomini mentre noi viaggeremo a nord vi recherete nella palude per setacciare e ripulire e poi ci raggiungerete a Porta Finice è ora di dimostrare la tua forza e di far tacere tua madre farò il mio dovere padre questo è quanto ora riposa partiamo all'alba sì padre la guerra che ingaggeremo non è solo per il controllo del cristallo ma soprattutto servirà a evitare che i sangue ferreo raggiungano in qualsiasi modo ciclonia sì lo so morirei piuttosto che vedere la loro corruzione vi auguro un buon viaggio domani e io a voi Clive che la vostra spada vi protegga grazie a tutti Grazie a tutti. Nessun messaggio, signore. Grazie a tutti. La finice è l'usanza, e lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì, porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la finice, l'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti, Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi lui più di quanto abbia visto la finice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosario. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci. Il tuo prezioso sangue nobile. Sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. Era un desiderio? Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Domani andrei con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Ci sarà un'altra guerra. Vero? Da quando sono qui, io ho dato prescontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. No. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Buonanotte, Clive. Ma... Buonanotte, Scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna. Amici, partiamo per Porta Fenice. Che la benedizione dei cristalli sia con noi. E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce. Aprite i cancelli. Lord Rosfield, permettetemi, lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore. Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei Goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Sir Wade. Sir Tyler. Mettiamoci al lavoro. Con piacere, mio signore. Agli ordini. Alle paludi, allora. La benedizione dei cristalli sia con noi. Wow, e questa è la mappa? 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 occhi aperti per quei goblin stando ai rapporti sono in quest'area da qui in poi è tutta palude fate attenzione signore come non farlo eccoci amici e amiche incredibile ah abilità abbiamo sbloccato adesso le abilità andiamo a salvare e ci vediamo al prossimo episodio di Final Fantasy 2016 Final Fantasy 16 col vostro Marco Drums mi raccomando di seguire il canale youtube, facebook, twitter, instagram, tiktok, twitch e di portare un sacco di amici vostri e chi volete sul canale dai dai portate un sacco di vostri amici e iscrivetevi al canale di Marco Drums Games così arriviamo a 1000 iscritti faremo cose fighissime ancora più fighe di quelle che facciamo ciao mitici, ciao mitiche alla prossima al prossimo episodio di Final Fantasy 16 che porterò tutto sul mio canale intervallato anche da altri giochi ma ragazzi tanta tanta roba ciao amici e amiche grazie a tutti grazie a tutti